o mamma caspita stavo quasi per fare una frittata quasi quasi faccio una bella frittata al forno stasera sì sì vado a farla sì sì e prima di iniziare ricordatevi però di iscrivervi al canale se non l'avete fatto attivando la campanella per fare la frittata al forno ci serviranno 6 uova pepe sale prezzemolo 70 ml di latte 150 grammi di prosciutto 150 grammi di formaggio 60 grammi di formaggio grattugiato e 60 grammi di pangrattato iniziamo mettendo le uova in una aggiungiamo il sale e il pepe mescoliamo ora aggiungiamo il formaggio grattugiato il pangrattato e tagliamo il prezzemolo mescoliamo e aggiungiamo il latte il composto non dovrà risultare molto liquido a questo punto prendiamo una teglia e mettiamo un foglio di carta forno ungiamo un po di olio ora versiamo metà del composto mettiamo il prosciutto e ora mettiamo anche il formaggio ricopriamo con l'altra metà del composto inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti il mio pasticcio è pronto questa frittata sembra veramente buona ora vado ad assaggiarla ciao 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 Grazie a tutti